Offside 56, tre finali UEFA per sei nazioni di Pasquale Fresegna Oggi una puntata piccola, speciale di Offside, una nostra storia del calcio perché si parla delle finali UEFA di questa settimana, della settimana scorsa Abbiamo quest'anno un anno particolare perché sono arrivate sei squadre ovviamente ma di sei nazioni diverse nelle finali UEFA Champions League, UEFA Europa League e UEFA Europa Conference League Sappiamo bene che la finale di UEFA Europa League è stata tra una squadra tedesca e una squadra scozzese che non arrivava in finale dal 2008 La finale di UEFA Europa Conference League di stasera è tra un'italiana e una squadra olandese Gli olandesi non arrivavano in finale dal 2002 e c'era il Feyenoord Mentre la finale di UEFA Champions League è la sfida tra i due maestri di calcio moderno Carlo Ancelotti e il suo Real Madrid contro Klopp e il suo Liverpool Due allenatori che hanno già vinto la Champions con quelle squadre Sei nazioni diverse in finale non si vedevano da una vita Probabilmente vi scriverò sotto da quando non succede una cosa del genere Se è mai capitata una cosa del genere ma credo che con la Coppa delle Coppe UEFA Forse solo con la Coppa delle Coppe UEFA abbiamo avuto qualcosa di simile Ma il dubbio resta comunque Sei squadre, sei nazioni diverse, oh mio Dio Che poi non abbiamo soltanto i grandi maestri, tre sono grandi maestri Ma tre sono allenatori che o non hanno vinto nulla di particolarmente importante O addirittura sono quasi all'esordio come allenatori Veramente una stagione particolare anche quella italiana Con le italiane eliminate agli ottavi di Champions League, ai quarti di Europa League E poi la Roma non è stata eliminata in semifinale E non è riuscito ad arrivare in finale di UEFA Europa Conference League Partiamo dalla prima competizione, quella che si è giocata Vuoi stare qui per la Roma? Arriverà subitissimo La UEFA Europa League 2022 è stata svuotata 15 squadre direttamente qualificate Tutto il resto proveniva dalla competizione di sopra Si è rafforzato in un certo senso Perché se più della metà delle squadre sono squadre eliminate dalla Champions League Il valore di questa competizione è molto ma molto ma molto più aumentato L'Aigan Francoforte batte ai rigori i Rangers di Glasgow 1-1 supplementari, 5-4 ai rigori Il Juventino di Ramsey ha sbagliato il rigore decisivo L'Aigan Francoforte fu la prima squadra tedesca o non latina A raggiungere la finale di Coppa dei Campioni d'Europa Perse 7-3 contro il Real Madrid nella quinta finale di Coppa dei Campioni d'Europa Quinto successo consecutivo per Real Madrid La striscia imbattibile finì con una finale da 10 gol e 135 mila spettatori 20 anni dopo l'Aigan va a vincere la prima Coppa UEFA 1980 In un'edizione in cui ci furono 5 squadre su 8 posti della Germania occidentale Più una della Germania est ai quarti di finale 4-4 della Germania occidentale I due volte campioni di Borussia Mönchensbach Persero contro l'Aigan che quindi 20 anni dopo Riuscì ad alzare quello che fino a quel momento era il suo unico trofeo europeo Dall'altra parte i Rangers di Glasgow Una squadra leggendaria che nell'anno del loro centesimo compleanno Alzarono la Coppa delle Coppe UEFA Era in 1972 Vinsero la Coppa delle Coppe UEFA Ora fanno 150 anni Erano falliti Erano retrocessi Partiti dalla quarta serie Sono tornati l'anno scorso a vincere il campionato scozzese Sono tornati nuovamente in finale dopo quella persa del 2008 Ma ancora una volta non sono riusciti a risollevare una coppa E' la terza finale persa da una squadra scozzese di Coppa UEFA Dall'inizio del nuovo millennio E la Coppa UEFA non l'hanno mai vinta gli scozzesi Solo 4 trofei internazionali conquistati Ora andiamo alla Roma Andiamo alla Roma di Mourinho Ma prima vi vorrevo Sì, il Milan ha vinto lo scudetto Questo è l'albo del 2011 E guardate chi c'era C'era lui, c'era Zlatan Allora, Roma-Feynord Una partita che ci ricorda i sedicesimi di Europa League del 2015 Quando ci furono tutto quel ben di Dio che combinava i tifosi del Feynord Sporcarono, spaccarono la fontana della barcaccia a Trinità dei Monti Il Feynord venne sconfitto 2-1 e poi 1-1 2-1 fuori casa e 1-1 in casa della Roma E la Roma poi venne eliminata dalla Fiorentina Che poi raggiunse le semifinali di Europa League Sconfitto da Sevilla Che il campione era l'anno prima Il campione si riconfermò quell'anno E il campione fu anche l'anno dopo Il Roma e il Feynord hanno due destini diversi A livello europeo il nome del Feynord fa tremare Il 1970 quando loro alzano la Coppa dei Campioni d'Europa Sono la prima squadra olandese ad alzare la coppa dalle grandi orecchie E il 1970 vincono anche la Coppa Intercontinentale La prima squadra del Nord Europa a riuscirci Poi due vittorie in Coppa UEFA Uno nel 1974 e uno nel 2002 contro il Borussia Dortmund a Rotterdam In casa loro E sono l'ultima squadra olandese ad aver centrato una finale All'altra parte la Roma è come dire La grande sfortunata È l'unica italiana ad aver vinto la Coppa delle Fiere Il 1961 Ma la Coppa delle Fiere vinta il 1961 La UEFA la riconosce come mamma della Coppa UEFA Ma non come Coppa UEFA Di fatto la Roma non ha mai vinto un trofeo UEFA Anche se ha vinto un trofeo europeo maggiore Riconosciuto da tutti Anche dalle IFF e HS Che nel 1991 tra l'altro L'ha lessa squadra mondiale dell'anno Da Roma poi c'è entrato due finali europee Prima di questa Quella di Coppa dei Campioni d'Europa Persa all'Olimpico In 1984 1-1 ci fu il famoso portiere del Liverpool Che fu il primo africano di sempre a vincere la Coppa delle Grandi Orecchie E quella di Coppa UEFA nel 1991 In entrambi i casi la Roma vinse poi la Coppa Italia Quest'anno la Roma in finale di Coppa Italia non c'è arrivata proprio Quindi è costretta a vincere Ed è costretta a vincere perché c'è lo specialista Lo special one delle vittorie Jose Murigno che iniziò la sua carriera d'allenatore nel 1999 In prima squadra e nel 2003 porto il Porto a vincere Coppa UEFA In finale contro era tipo lo Sporting Lisbon No, era tipo contro il Celtics Tra l'altro squadra scozzese Coppa UEFA Campionato portoghese e Coppa di Portogallo Un triplete che ricentrerà sette anni dopo il Liverpool L'anno dopo rincerà il campionato portoghese E la UEFA Champions League 3-0 al Monaco Prima finale per il Monaco Seconda per il Porto che vinse 2 su 2 Poi andò a Chelsea Porto e Chelsea a vincere 2 Premier League di seguito Chelsea vinse la sua prima campionata inglese A 50 anni dalla sua fondazione Con Murigno vinse il secondo campionato inglese La prima Premier League a 100 anni dalla sua fondazione L'anno dopo ne vinse un'altra Due semifinali di Champions Vabbè, non andiamo sui dettagli Va all'Inter Realizza il triplete Il triplete del 2010 Campionato di Serie A del 2009 Serie A, Champions League e Coppa Italia del 2010 Poi si perde un pochino con Real Madrid Ma riesce comunque a giostrare A fermare il Barcellona di Pep Guardiola Vincendo una Coppa dei Rei nel 2011 E la Liga nel 2012 Poi va al Manchester United Vince la UEFA Europa League 2016 In 2010 a 7 Per lui quindi sono due Champions E due Coppe UEFA Con tre squadre diverse E adesso ha l'opportunità della vita Giovanni Trapattoni L'unico allenatore Aveva vinto tutte le competizioni Internazionali Esistenti Le 5 maggiori Coppa dei Campioni d'Europa Coppa delle Coppe UEFA Coppa UEFA Ha vinto la Coppa dei Campioni d'Europa Nel 1985 con la Juve Le Coppe delle Coppe UEFA Nel 1984 con la Juve La Coppa UEFA Nel 1977 Nel 1993 con la Juve Nel 1991 con l'Inter E' stato primatista Fino a quando poi L'anno scorso Un certo Non mi ricordo Emery Ha vinto la quarta Con il Villareal Inoltre ha vinto La Supercoppa UEFA Nel 1984 La Coppa intercontinentale Nel 1985 Il nostro trappo Come lui Aveva fatto un certo Udo Lattec Campione d'Europa Nel 1974 con il Bayern Monaco Vincitore della Coppa UEFA Nel 1979 con il Borussia Mönchersbach E vincitore della Coppa UEFA Nel 1982 con il Barcellona Anche col Barcellona Dopo aver fatto la Coppa Delle Coppe UEFA Se non mi sbaglio Andò via In realtà lui non ha mai Giocato la Supercoppa UEFA E non ha quindi mai Giocato neanche La Coppa intercontinentale Murigno potrebbe fare Come questi due allenatori Vince tre trofei Diversi UEFA In carriera Considerate che Murigno Ha iniziato quando La Coppa delle Coppe UEFA Non esisteva E quindi non avendo mai Giocato la Coppa delle Coppe UEFA Possiamo dire che Loro due Trapattoni E Lattec Hanno vinto i tre Trofei UEFA Del XX secolo Lui potrebbe vincere Trofei UEFA Del XXI secolo Con una Coppa Che comunque Ha mezza Europa League Dentro Vi ricordiamo in tutto questo Che la Roma È stata Negli ultimi cinque anni Semifinalista Di tutte e tre Delle competizioni Con Di Francesco Viene sconfitto Dal Liverpool Poi finalista Per delle Champions League 2 a 5 4 a 2 vittoria Nel 2018 Nel 2021 Manchester United Lo sconfigge 2 a 6 3 a 2 vittoria Al ritorno Con Fonseca Poi sconfitto anche lui E invece stavolta Abbattuti Lesser City In semifinale 1 a 1 E 1 a 0 Ricordiamo il Godo Glimp Che li ha sconfitti Addirittura 6 a 1 Quanta era La fase a Gironi Li ha battuti 4 punti Nella fase a Gironi Li ha sconfitti E poi hanno perso La partita E lo sono riuscita A recuperare 7 gol La Roma 10 il Godo Glimp Ma la Roma E poi è andata Ai quarti Ed è riuscita A passare Chiudiamo qui Carlo Ancelotti Raggiunge la sua Quinta finale UEFA Champions League E già prima Dista di finali E prima Dista di vittorie Klopp Sale a 4 Quindi raggiunge Munoz Lippi E Ferguson Potrebbe vincere La sua seconda coppa Carlo La sua quarta coppa Il Liverpool Ha battuto il Real Nell'81 Il Liverpool Ha perso I due conti Il Real Nel 2018 Ma stavolta I due si incontrano E sarà Grande battaglia Di stile Ricordiamo che Il Liverpool Ha beccato Sia il Milan Che l'Inter Il Real L'Inter Ma ha fatto Le grandi rivoluzioni Contro il PSG Chelsea E City Quindi Benzema 15 gol Salah 8 gol E la sfida Delle sfide Tra due Grandi campioni Che forse Non vinceranno Il premio Di milioni Dottore Del mondo FIFA Soprattutto Ancelotti Perché il club L'ha vinto Il miglior allenatore Del mondo FIFA Perché quest'anno Ci sono i mondiali E Ancelotti Andrà a male Una seconda volta Io spero Non mi venga andrà a troppo Ci vediamo un prossimo video Di calcio Di sport Di cinema Di attualità Ciao a tutti